se si continua dritto di qua c'è un recinto con due mari in mani incazzati neri e la rete bassa bassa no ma si gira si gira no ma 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 si gira ma si gira grazie arrivano gussi lo fa solo quando si assurra, che quando fa, scopo mi riesce a capire dove viene la girava manuta, mi sono fermato, avevo girato questo all'incontrata perché non sta più basso, però in discesa ah questo è fatto da 2 giorni Sì. Vitrogafi, vitrogafi. Vitrogafi. Ancora ci sarà. Perfetto. 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 Non c'è tantissimo, però è dura. Perfetto. Un'altra. Perfetto. 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 Puoli, 50 кол haltimento, Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.